Tony F potrebbe avere un flirt con un ex velina di striscia la notizia La giovane ha partecipato a un suo concerto in Puglia. Il rapper Tony F potrebbe avere un flirt con un ex velina di striscia la notizia. La giovane ha partecipato a un evento in Puglia, e ha persino partecipato a un'esibizione del cantante dal backstage. I due in seguito avrebbero persino trascorso la giornata insieme in barca. Il mondo del gossip già parla di una nuova relazione. Tony F e l'ex velina, un nuovo flirt? Cosa sappiamo? Da alcune ore si parla di un possibile flirt in corso tra il rapper Tony F e l'ex velina di striscia la notizia Cosmeri Fasanelli. La relazione con l'influencer romana Giulia De Lellis sarebbe già archiviata per motivi sconosciuti. Nelle ultime ore l'ex volto di amici ha pubblicato una storia su Instagram girata presso il Sotto Sopra Festa Gallipoli. La showgirl ha ripreso il cantante di Sesso e Samba, mentre si esibiva sul palco. Cosmeri Fasanelli non ha assistito al concerto come semplice spettatrice, ma l'ha fatto da una posizione privilegiata trovandosi nel backstage, a pochi metri dall'artista. Non appena è terminata l'esibizione del rapper lui e la velina secondo le indiscrezioni avrebbero trascorso la giornata insieme in barca. Il rapper ha pubblicato una storia su Instagram sullo stesso Yacht, nel quale si è fotografata qualche ora dopo la ballerina. I due sfoggiano anche la stessa posizione, anche se entrambi hanno evitato di mostrare che fossero insieme. La presenza dell'ex velina di striscia la notizia per molti sembrerebbe indicare che la presunta frequentazione tra il cantante e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis sia terminata. I due erano stati avvistati insieme alcune settimane fa al concerto di Jolie a Napoli e secondo il mondo del gossip, avevano passato il resto della serata insieme. Poco tempo dopo erano stati avvistati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e avevano attirato l'attenzione generale con una presunta scenata di gelosia da parte dell'influencer nei confronti di Tony. Tutto il clamore per la loro frequentazione si è spento nel giro di pochi giorni. Il rapper sembra aver voltato pagina molto in fretta. Ad attirare la sua attenzione ci sarebbe la ballerina Cosmeri Fasanelli. La sua ultima relazione nota è con il collega Nunzio Stancampiano, conosciuto proprio durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.